Salve a tutti e benvenuti a questi nuovi giolli in pillole che vertono su un brevissimo commento ad una recente pronuncia del Consiglio di Stato che si esprime sui limiti al diritto di accesso. Si tratta di una sentenza del 17 agosto scorso e se ne nuclea che ove l'amministrazione dichiare di non detenere il documento, assumendosi dunque la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non sarà possibile l'esercizio del diritto di accesso e al cospetto di una dichiarazione espressa dell'amministrazione di inesistenza di un determinato atto, si legge in sentenza, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuzione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto che si profilerebbe dunque come inutiliter data, dunque infruttuoso. Viene richiamata tra le altre un'altra sentenza dello stesso Consiglio di Stato, settane quarta, la 2142 del 2020. Resta fermo beninteso che l'appellante resta abilitato a formalizzare nuove richieste di accesso nei confronti dell'amministrazione comunale che ebbe a formare documenti, anche nella prospettiva della ricostruzione dei percorsi correlati alla loro eventuale traslazione ad altri soggetti, in virtù delle articolate vicende negoziali intercorse tra le parti. Andiamo a vedere quali sono le keywords. Quest'oggi ho deciso di affiancare a ciascuna parola chiave uno link da cui potrete dessumere degli approfondimenti che vi consiglio ovviamente di svolgere. Innanzitutto, cos'è una società controllata in controllo pubblico? Vi ricordo anche che c'è una bellissima lezione del Dottor Chiarelli a riguardo che vi consiglio che proprio commenta il testo unico sulle società partecipate, molto utile ai fini del superamento delle prove concorsuali. L'altra parola chiave è accesso documentale, anche in questo caso vi fornisco i link, l'altro è i limiti all'accesso documentale e l'altro ancora i rimedi avverso il diniego all'accesso documentale. Lascerò a vostra disposizione come sempre le slide attraverso le quali potrete approfondire in maniera più puntuale e ovviamente anche il link da cui potrete scaricare il testo completo della sentenza che comunque metterò a vostra disposizione con le mie sottolineature. Detto ciò andiamo a leggere insieme la sentenza partendo però dalla lettura dell'articolo 24 da cui si dessumono le esclusioni dal diritto di accesso che vi consiglio di leggere integralmente e andiamo a vedere appunto cosa ci dice l'articolo 24 della legge 241 del 90. Esclusione dal diritto di accesso, il diritto di accesso escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nei procedimenti tributari, nei confronti delle attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi e vedremo che poi la sentenza si focalizzerà in particolare sul settimo comma dell'articolo 24 laddove appunto si enuglia che deve essere garantito ai richiedenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza stiene testera per curare o per difendere i propri interessi giuridici e andiamo a questo punto a leggere la sentenza in commento insieme focalizzandoci sulle parti essenziali. In modo particolare si tratta appunto di una sentenza proposta che prende spunto da un ricorso proposto da CEDES che è un SRL contro la capo holding SPA nonché il comune del Biategrasto e l'Amaga che è un'azienda multiservizi interamente partecipata. Questo procedimento prende spunto appunto dalla riforma della sentenza del TAR a Lombardia, Sessione Milano e in particolare dalla istanza di accesso documentale con cui la CEDES richiedeva essenti degli articoli 22 seguenti della legge 241 del 90 a cap holding SPA e alla sua controllata, entrambe società pubbliche cessionare dal 2013 di un ramo di azienda di Amaga afferente alla gestione del servizio idrico integrato nel comune di Biategrasto. Cosa si richiedeva? L'accesso agli atti e documenti riguardanti l'appalto di lavori di ristrutturazione, di potenziamento e di ammodernamento dell'impianto di depurazione del comune di Biategrasto. Si chiedeva in particolare di acquisire copia di una serie di documenti che non vi sto qui a leggere e dopo che la cap holding con una nota specifica aveva rifiutato l'accesso, opponendo la impossibilità di darvi seguito in quanto i documenti richiesti non erano nella disponibilità né della cap holding né dell'altra società partecipata, CEDES sollecitava l'intervento del difensore civico regionale che è una figura che ritroviamo in quasi tutte le regioni a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa e che è anche uno dei soggetti a cui poter ricorrere contro le limitazioni o contro i dinievi all'accesso insieme ad altri soggetti specifici. in particolare vi consiglio di approfondire l'argomento relativo alle funzioni del difensore civico regionale perché è spesso oggetto di domanda nel corso dei concorsi pubblici in particolare presso le regioni. Che cosa si assumeva? Che la motivazione si ponesse in contrasto con quanto affermato dall'originaria affidataria che era l'Amaga, la quale si era costituita con altro ricorso e aveva sostenuto che gli atti in questione non fossero più nella disponibilità perché la società aveva consegnato tutta la documentazione alle società partecipate in ottemperanza all'articolo 2.2 del contratto di gestione. CEDES allegava il proprio interesse qualificato, ricordiamo che per l'accesso documentale l'interesse deve essere diretto, concreto e attuale, è un accesso che potremmo infatti definire egoistico a differenza dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato che non richiede la qualificazione degli interessi e mentre CEDES invece metteva in evidenza la necessarietà e l'autilità della conoscenza degli atti e dei documenti richiesti in quanto funzionale alla cura dei propri interessi giuridici. Riferiva tra l'altro di avere seguito in quanto lavorazioni in subappalto con affidamento successivo alla giudicazione dei lavori rimanendo tra l'altro creditrice. L'istanza ostensiva di accesso che il correlato impedisse con ricorso al difensore civico regionale si collocava a valle di un contrasto e di un confronto tra la CEDES, il comune del Biategrasco e le due società in austo che abbiamo già citato e nel corso di queste interlocuzioni Amaga, l'affidetario originale, si era opposta alle richieste allegando innanzitutto la mancanza di interesse all'esibizione che viene definita ostensione nell'ambito appunto della pronuncia e la indisponibilità degli atti in ragione del decorso del tempo e la carenza dei presupposti legittimanti in capo all'istante. Quindi tre sono gli elementi su cui si basava l'opposizione alla richiesta di accesso. La mancanza dell'interesse concreto diretto attuale, la indisponibilità fisica degli atti e la carenza in capo al richiedente dei presupposti legittimanti in capo all'istante. A fronte di ciò la CEDES si era rivolta con ricorso amministrativo alla Commissione Governativa per l'accesso ai documenti amministrativi, altro soggetto che vi invito ad approfondire e che viene espressamente citato dalla 241 del 1990, dinanzi alla quale Amaga aveva sostenuto di non disporre dei documenti richiesti da CEDES, riferendo che a seguito della cessione del ramo d'azienda non era stata consegnata tutta la documentazione. Su la base di questa circostanza CEDES aveva indirizzato istanza al comune di Abbiategrasso e alle società partecipate, ma questa richiesta era stata declinata anche dal nuovo gestore del servizio idrico. Nel corso del procedimento amministrativo dinanzi al difensore civico questo metteva in evidenza come la gestionaria del ramo di azienda non poteva sostenere di non avere la disponibilità dei documenti richiesti, la cap holding rispondeva i rilievi del difensore civico evidenziando e confermando che aveva confermato e richiesto l'istanza di accesso sostenendo che la gestione del ramo di azienda non aveva avuto ad oggetto i contratti di appalto e la documentazione IV inerente e dall'altro lato che l'istanza di accesso di CEDES ineriva a documenti molto datati nel tempo e quindi non più disponibili. Dunque la CEDES notificava ricorse ai sensi dell'articolo 116 primo comma del codice del processo amministrativo e chiedeva al TARRA per la Lombardia l'annullamento del diniego e la resistente si costituiva in giudizio mentre non si costituivano in giudizio il comune di Abbiategrasso e l'Amaga S.P.A. benché fossero state ritualmente chiamate in giudizio. Il TARRA respingera il ricorso e il ricorso del TARRA è stato impugnato, ma il Consiglio di Stato conferma quanto dedotto dal TARRA in quanto mette in evidenza che l'appello è infondato perché col primo motivo di doglianza nella parte in cui l'appellante censura la sentenza per quanto riguarda la valutazione lesiva della pretesa di esibizione ha respinto la domanda di accesso a fronte della dichiarazione resa dalla cap holding di non detenere i documenti richiesti. Il motivo secondo il Consiglio di Stato non è persuasivo, infatti il diritto di accesso trova un limite che da un lato è di ordine fisico materiale dall'altro è di ordine giuridico, che è la disponibilità che l'amministrazione ha della documentazione di cui si richiede l'ostensione e dunque la possibilità di acquisire documenti postula la materiale detenzione da parte dell'amministrazione a cui rivolta l'istanza, così come già affermato dal TARRA e questo presupposto va acquisito in termini di fatto costitutivo della pretesa di esibizione, poiché la sua allegazione e dimostrazione grava sulla parte che intenda farne valere il diritto, la quale può assolversi anche attraverso delle presunzioni ovvero in via indiziaria, cioè deve negarsi che sotto un profilo formale sia l'indisponibilità del documento a concretare il fatto impeditivo perché il fatto costitutivo è di ordine positivo e non negativo, che sta nel fatto che delle esibizioni negative non possono costituire prova, quindi delle negazioni non possono esibire prova o espresse col brocardo latino, negativa non sunt probanda. D'altronde è anche stato dire che ad impossibilia nemotienetur, cioè in assenza di prova della effettiva esistenza e disponibilità della documentazione richiesta, non è possibile erogare un'ingiunzione alla relativa ostensione che risulterebbe insospettibile di essere eseguita ex ante e in astratto, ci dice il Consiglio di Stato. Quindi il TARRA ha ritenuto di rigettare ricorso perché l'onere della prova in ordine alla detenzione dei documenti da parte di Cap Holding, cui era rivolta l'istanza, non era stato assolto e dall'altro lato c'è da dire che la documentazione relativa alle attività era documentazione relativa ad attività tenutasi molti anni addietro, dunque molto risalente nel tempo e ciò vale a dire che il fatto dell'esistenza di un contratto di gestione non costituiva dimostrazione della consegna della relativa documentazione. Dunque si deve ripetere che quando l'amministrazione dichiara di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato, è a cospetto di una dichiarazione espressa da parte dell'amministrazione della inesistenza di un determinato atto nella sua disponibilità, non vi sono margini per ordinarne l'accesso. Ovviamente l'appellante può formalizzare nuove richieste di accesso nei confronti dell'amministrazione comunale. Con il secondo motivo di deglianza, l'appellante lamenta la violazione dell'articolo 24 settimo comma, che abbiamo già evidenziato nella prima parte del commento, nella misura in cui le condotte assunte da tutte le amministrazioni coinvolte nelle vicende dedotte in giudizio avrebbero inciso sotto il profilo della possibilità per la CEDES di esercitare il proprio diritto di difesa. Quindi il motivo non può essere ritenuto valido per giustificare un accoglimento. Dunque la regiazione del ricorso risulta per il Consiglio di Stato fondata per pregiudiziale carienza, per difetto di prova del fatto costitutivo della pretesa di esibizione e non sull'ipotetica negazione dell'interesse a conseguire l'accesso. Dunque l'appello deve essere respinto e il Consiglio di Stato fa proprio questo e ordina che la sentenza sia seguita da parte dell'autorità amministrativa. Vi rammento il contenuto esatto del settimo comma dell'articolo 24 della legge 241 del 1990, che andiamo appunto a leggere insieme, secondo il quale deve comunque essere garantita e richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza se necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Si prosegue che nel caso in cui i documenti contengano dati sensibili e giudiziari l'accesso è consentito nei limiti cui sia strettamente indispensabile nei termini previsti dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 196 del 2003 in caso di dati idonei a rivelarne lo stato di salute e la vita sessuale, ovvero si citano in via indiretta quelli che sono i contenuti attuali dell'articolo 10 e 11 del GDPR. Quindi diciamo che ho ritenuto particolarmente interessante commentare questa sentenza alla luce del fatto che è sicuramente fonte di ripasso per una serie di argomenti particolarmente rilevanti, sia per la vostra conoscenza personale, quindi a titolo di cultura generale, sia per la conoscenza specifica della materia che è spessissimo oggetto di domanda nell'ambito dei concorsi pubblici. Questo per oggi è tutto, io mi auguro di avervi fornito degli spunti comunque utili per la vostra formazione, per un utile approfondimento e ci vediamo prestissimo.